Questo video riguarda i migliori tre carrello da cucina. Il vincitore della qualità è il costo e i carrello da cucina. Il cassetto e l'armadietto sono perfetti per conservare vari utensili, argenteria e vetreria e mantenerli al sicuro. La mensola regolabile in tre posizioni all'interno dell'armadio si adatta alle dimensioni degli oggetti e si può anche rimuovere per avere più spazio. Inoltre, la superficie spaziosa è ideale per preparare tante prelibatezze. Con quattro ruote universali, il carrello da cucina si spinge ovunque. Le due ruote di gomma sono dotate di freno per fissare il carrello ed evitare che si sposti accidentalmente. Realizzato in MDF e legno di alta qualità, il carrello da cucina è resistente e durevole e regge grandi carichi. Le cerniere di metallo rafforzano il collegamento. Dall'aspetto semplice ed elegante, questo carrello si abbina a tutti gli stili decorativi. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il costo e il carrello da cucina. Il carrello da cucina è realizzato con legno di pino naturale ed ecologico, il che lo rende robusto, resistente e durevole nel tempo. Dotato di due cassetti, due portabottiglie, due cestini frutta in metallo e due ripiani in legno per adattarsi alle diverse esigenze di archiviazione, fornendo spazio sufficiente. Il carrello è dotato di quattro ruote multidirezionali che consentono all'unità di muoversi. È possibile bloccare due ruote per una maggiore stabilità del carrello. Il carrello da cucina è versatile, infatti, può essere utilizzato in qualsiasi stanza, ad esempio in cucina, camera da letto, lavanderia, bagno e soggiorno. L'assemblaggio del nostro carrello è molto semplice con le istruzioni dettagliate e facilmente comprensibili presenti nella fornitura. Il vincitore del premio è il Sogeson Trolley 3. 60 x 32, 5 x 79,5 cm. Weight. Around 5,3 kg. Possono esistere differenze di misurazione di 1-3 cm. Grazie per la vostra comprensione. Realizzato in bambù resistente all'ambiente e durevole che presenta robusto e resistente garantendovi un utilizzo sano e sicuro. Uno leggero e resistente, due movibile e stabile. Ha quattro ruote in plastica mobili con ruote con freno di bloccaggio per facilitare la mobilità e la stabilità, con barre anticaduta su ogni ripiano, per la totale sicurezza degli oggetti appoggiati. Può essere utilizzato in cucina, garage, bagno, patio, cortile, ristorante sala da pranzo e così via. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.